O switch Si vede già si Mazza sto microfono che bomba Il suono delle casse non lo sente quasi per niente Comprate il microfono dinamico nuovo Questa è un'altra cosa Allora silent till, silent till, silent till Non sono La sua C'è un'altra cosa Grazie a tutti. Grazie a tutti. E stavo dentro l'ospedale, però non mi ricordo se nell'ospedale c'era quella roba lì che dovevo salvare Kaufman all'esterno oppure da qualche altra parte, non ricordo quindi vado avanti per il mio ospedale e via. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Torno sabato, un attimino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, finisco la sigaretta. Anzi, me la lascio per dopo. Allora... Allora... Devo cercare... Ho capito, ma... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una chiave... Una chiave... Grazie a tutti. Ah, già i sotterranei dove o no? Aspè, qui sta in altre stanze. Eccoti, ti leggo su Twitch. Allora, che cazzo? E dammi sta visuale di qua. Una fiola di pete rotta per terra. Devo leggere sparpagliati. No, basta, l'hai già visto. Quindi qualcuno ha rotto una fiala. Sta cosa non me la ricordavo. No. No, non si possono fare sub perché ovviamente non c'ho la... Si chiama? Ah. Non c'ho quelle... Affiliato, affiliazione. I crotch crotch mi sa che mi conviene farli con questo, non ne la faccio a farli con la pistola. No, la partner. Manco a quell'altro ci sono riuscito, figura. Non mi ricordo da dove vengo. Io vengo da qui. No, non vengo da qui, vengo da qua. Ok. 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 No, io vengo da qua, vedi eh. Ma perché mi spegne la luce? questa è incastrata la corrente va solo all'ascensore al pronto soccorso e alla serie operazioni che tanto devo attivare l'ascensore la corrente va solo ah è questo palle niente qui quindi eh vado sopra secondo oh all'estate le camera maledetta vabbè tanto c'è solo questo ma che cazzo no non ci credo vado a me sereni sotterranei no qui no la mappa no allora questo è allora 1f allora quelli e le petro ok ci sono già stato sono chiuse a posto poi qua invece non sono stato nei bagni e ma sono stato da tutte le parti come come e e e sono chiuse quelle porte qui qui pure è chiusa e altezza è chiusa c'è qualcosa che a me sfugge no donna medicine room e e Eeeh Ma- eeeh Ma io non ho giocato nient'altro che questo Cioè non ho giocato nel 2, nel 3 Nel 4 pure C'è pure il 4 Tutte chiuse Questa che era? Dottor Office Ok la cucina pure l'ho fatta Devo riandar giù C'è un altro piano? C'è anche il No questo è il sotterraneo Eeeh quelle sono chiuse e dove vado? Un'altra controllata al generator room Che diceva? Il generale funziona Faceva solo Funzionare solo Il Cosa L'ascensore Allora al primo piano ci sono stato e non succede niente Secondo Secondo Eeeh ma incastrata Ma al quarto ci sono stato? Ma c'era prima il quarto? Ma c'era prima il quarto? Ma non c'era il quarto prima Ma infatti non c'è Non c'è neanche scritto sopra Eeeh E infatti prima non c'era il quarto Che trip Non me lo ricordavo sto trip Ma poi che c'entra quella che è? Si è fatto tutto vecchio? Dove riprendere mano la pistola Dove riprendere mano la pistola Si è bloccata questa? E' bloccata questa Dovino un po' dove vado? Qui Quella dietro mi si è incastrata Ah Perché qui torna un'altra dimensione La dimensione dell'oscurità Ah Ah Perché qui torna un'altra dimensione Ah 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 Piastra della tartaruga Piastra della tartaruga Mi ricordo proprio niente Ah 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 E' vuota Ah Ero piccoletto quando Ciao Rick Grazie mille per essere passato Ero piccoletto quando ho giocato a sto gioco Michetto Fermo Fermo Buon'azione in cazzo Fermo Dio Guarda Levati Semi Che cazzo però Oh 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 Ok, questo non è difficile batterle con il tubo Iscriviti al nostro canale Ficcolato nel sangue. Eh no, devo tornare indietro. No, vabbè, andiamo verso di qua adesso. Ultime due stanze. Ah, salvataggio. Prima voglio vedere se c'è qualcosa da prendere. Sì. 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 Forse qui mi servivano tipo un cacciavite. Sì. 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 Eh. Sì. E Franche. Sì. Sì. Prima amassiamo questi stronzi. Grazie a tutti. Ok, e poi continuiamo le stanze, anzi direi di passata al finale, alla fine. Passate tutto indietro. Mi sono castrato! Erca troia! Passate tutto indietro. Passate tutto indietro. Grazie a tutti. 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 Oh. 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 Aspetta. No. Allora. Nuvole che si muovono oltre le colline. Cielo di un giorno sereno. Blu. Sono quattro. Blu. Arancione. Verde. Viola. Aspetta. Aspetta. Ok. Ok. Allora. Nuvole Nuvole. Aspetta. Oh. E che cristo. Nuvole. Nuvole che è il giardino. Il bianco. Poi. Quindi in ordine. Quindi in ordine ? So quelli. in ordine sono quelli, me ne accendo la sigaretta, porca troia, erano solo quattro perché quattro ci stanno, dovrebbe essere, allora quattro rientranze quindi, nuvole, poi il cielo, quindi giurro sopra, a destra, poi rosso, no è arancione, mandarini, ok, poi dopo la arancione devo mettere il verde, quindi blu verde, blu verde, soffioni che cazzo è, e rosso per ultimo tempo di dormire nero, ok no quindi abbiamo detto blu, ok, e lo metto qui, blu verde blu verde, eh sì, blu verde, rosso per ultimo blu verde, giallo e rosso, no, non voglio togliere niente ok vieni dietro oh, 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 sono troppi oh, 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 oh Leva te, madonna, tutte e due Cristo Sì, tre Quante so, tutte Porca troia Non si levano Ok, una è cascata Dove sono cascata? Aia Che troia Che è rimasta questa? E tre non me l'aspettavo No Se non vi vedo Cribbio Aiuto No Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mia che ansia. Ma che è? Non c'è un cazzo qua dentro. Ah no, c'è un'altra porta. No, è sempre la stessa. No, è un'altra porta. Dio. Chiave del magazzino sotterraneo. Boh, forse è ora che mi metto la pistola. Magazzino sotterraneo. Quindi deduco che tutte queste porte siano chiuse. Non è vero. Cazzo c'è qui dentro. È una sola. È una sola. Posso equipaggiare. Oh, oh. 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 Alcol disinfettante. Din 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 din. Chiuse. Aperto. Oh Perché nei bagni ci sono andato? Chiuso Chiuso Quindi Chiavi magazzino sotterraneo Devo andare a sotterraneo Gente? C'è gente? Sì Aia No all'angolo no Codice Ah sono troppi Nevate Oh Gribbio Siete troppe Oh 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 Ma quando mi attacchano così non mi dò alcuna vita Cristo Oh 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 E fate a turni i mortacci vostri Oh 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 E che cazzo Però sono ancora verde quindi non mi fanno danno quando Mi fanno le Eh le zozzone Una fiala Madonna ma che cazzo ci faccio con le fiale Un cadavere gioce sul letto non voglio più cercare nulla qui Eh 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 ovvio Poi Gli schizi che cazzo proprio Partiamo dalla fine Chiusa Oh Un martello lo prendo? Sì Ma probabilmente Ah intanto testiamolo Io star ma non mi ricordo per niente Ah è uguale a quella Penso che faccia più danno però Magazzino Oh Fucili a Cosa del fucile a pompa Oh C'è niente dentro E Basta Così Cioè praticamente nel magazzino c'era un cazzo Praticamente solo quella roba lì Dai Non può essere C'è qualcosa pure che mi sfugge Bottiglie De De Cristo Niente Tutti medicinali Così Che non mi servono Qua all'angoletto non c'è sta niente Cioè quella chiave serve solo per prendere le provviste Quindi 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 Dovevo andare Dovevo andare App Fischio Fischi app C'è gente Sicuro? Che sto nella hall Tipo Non c'è nessuno Eeeh Quindi Stanza 200 Perché nella stanza 200 non ci sono andato? Lì c'è il video Ma Mi manca la stanza 201 Che sta di sopra Al secondo Dove è la stanza 201? 200 Oddio Qual'era la La stanza Per salvare 206 Questa? No Non era questa Questa è chiusa Intensiv Chiari unit No Ok 201 Lì c'è Stanno in scale Infatti Non c'era entrato Qua Perchè non va avanti Ah Con questo Non si muove E' più potente Ma non si muove Cos'è? Un accendino Ma che serve Ma che serve Indietro Quindi mi devo spostare Indietro Così E poi Non posso andare avanti Non posso spostare Comunque Ah no Qui c'era Lo schifo No No Forse devo bruciar Questa? No Ah questa è di pietra Ok quindi no Mi cambi visuale Te prego Sono stato in tutte le stanze Ah forse sopra si salva Room 304 Mi pare Vediamo Qui c'è stanno Qui c'è stanno le scale? Sì qui c'è stanno le scale Eeeh Ci stanno le scale Per andare Sopra O sotto Sopra Ma le scale So Praticamente stanno Allo stesso livello Dall'ascensore Quindi non ci stanno Porte chiuse Porte aperte Quindi vado sopra Eeeh Vado sopra Ricontrollo La video room Che cazzo Devo fa' Oh Sopra Uh Ma eeeh Aspetta Questo è un quarto piano Che non c'è Eh, sale ancora su È chiusa Ok, qui è chiusa Divertente St'enigma Quindi riscendo al terzo Questo è il bagno Non c'è sta niente Allora vorrei salvare Scale Una cabbia per uccelli è vuota E qui c'è la cabbia per uccelli Vabbè Video room, ecco qua Questa la salva? Il video room? Non ricordavo che fosse la video room Room 302 303 Chiusa E 300 watt Ah, c'era questa Forse mi serviva un cacciavite qua O l'accendino Non ci faccio niente Cacciavite non ce l'ho? No, questa non è niente No, probabilmente c'è qualcosa che mi sfugge nel magazzino Ma è arrivato su? Sempre chiusa Ho fatto il caricamento un po' più lungo Qui non si scende però Quindi devo tornare No, devo andare giù Dall'altra parte Aspetta Nella medicine room però No Aspetta Che problema c'è la medicine room? Ah, è bloccata Quindi dall'altra parte si apre No Come la girasse Così O anche da qua C'è qualcosa che non me convince Allora Vediamo un po' Quiral morgue Store Store room Store room Di là Possibile che mi sia scordato qualcosa qua dentro Non c'è niente Ah Avevo un qualcosa Eccolo Bottiglia d'alcol Isopropilico Trovata Nella sala di pronto soccorso All'ospedale Alcol disinfettante Alcol disinfettante Alcol disinfettante Alcol disinfettante Si 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 Quasi Trovata Passi Questa è quella del video Quella del De quel coso là No ma qui che cazzo c'è No Dove sta quel Tipo serpente là Lo rifà tutti i piani No ma qui Quello dove stava la piastra Che cazzo Le ho riviste tutte qua Secondo piano No Io ho preso l'acido, una terapia intensiva. Che c'è questa musica qua? Io ho preso tutto... e... Nurse Center... vediamo un po', passiamo da qua. Ah ok, questa qui era la porta quella... aspetta un po'... ... ... ... Grazie a tutti. Eccolo qua. Boh, ci provo. No. No. Niente, quindi, qua. Niente, qua era solo per prendere la piastra. Ah, questa. Ma a che serve? Infatti... E qui c'era questa qua. No. I bagni sono chiusi. Quella che è passata dall'altra parte... Devo andare al primo. Ma al primo pure, ci sono stato. E' quella medicine room che è a metà strano. No. 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 Qualcosa mi sfugge Quella, quella lastra al muro No, questo è il fischio Quel Fischio Magazzino Niente Generatore lo stava al martello E quindi qui lo escludo proprio Ritorno al primo Che cazzo devo fare Ritorno al primo Fammi tutto il giro Ma cosa Oh Tadà Segretino Ok Io risalvo qui Quindi come giretta al primo Si fa moda qua E' che qua in cucina Qua in cucina ho visto un po' De fretta Non vorrei che ci fosse qualcosa qui E' un vassoio quello Niente Non ci sta niente Cucina E' un vassoio Grazie a tutti. Ma pure qua? Possibile che è una stanza così inutile qui? Grazie a tutti. 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 No, no, devo vedere per forza la soluzione. Se no rimango bloccato. Allora... Soluzione Silent Hill ospedale. Allora... Che cazzo è? Verso il centro... Entra la strada andata del Cristo... Sto fatto ospedale... Sto fatto ospedale... Allora... Un'area luminosa... Che cazzo è? 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 E... Che cazzo è? 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 bloot pack, contenuto nel plate, ulse center ok il nuovo video, io ho fatto la gente, il plate ok, va bene bene operando in perperum, trattando le chiavi per il magazzino che sono stati riusciti a non avere adiacente condizioni disinfettante ok la porta del magazzino poteva aprire che sia che... eh, 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 se ne metto delle munizioni sia per i pistoli mortacci ma come cazzo facevo a vedere l'oio che c'era una cosa orcode 2 ascensore e mi era sfuggita una cosa del sotterraneo eh, la chiave del magazzino mi sembrava strano che servisse solo a quel cazzo di poco che c' aveva delle munizioni serviva a qualcos'altro adesso vediamo il cazzo dove era? store ecco 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 come si vede bastardino aspetta come si fa però aspetta e qui devo bruciare sta roba ecco 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 Grazie a tutti Grazie a tutti No No Oh Ehm Lo cazzo sto? No pure la fiala potevo usare Sono andato completamente a cazzo Marco... Cazzo è stato? Oh basta No 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 Ah la cassetta da vedere sul rebito registratore Ok poi Ah giusto Ah qui è quello che fanno i cocci Quindi questa Questa Poi sono rimaste Prima parto da sinistra Ok chiusa Le ultime due Le ultime due E questo? E questo cosa? Looks like someone's been here Ah Alessa Chiave Del gabinetto medico Qual è il gabinetto medico? Dio Eh ho finito qua Qui è il gabinetto medico? Nooo Nooo Gabinetto medico Vediamo Vediamo Forse il primo piano era Medicine room Medicine room dovrebbe essere Second trippo Cioè dovevo prendere una chiave lì Vabbè All'improvviso All'improvviso Il silenzio Il silenzio Qui ne è Yes Filmato Eccola L'infermiera L'infermiera Eh Eh Chi sei però L'infermiera 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 Cosa Mi hai L'infermiera 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 Harry Mason Harry Tell me cosa succede Qui è il quale L'infermiera 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 Quando veniva L'infermiera Lo E' E' è vero quindi non sapete nulla cosa fantastico non lo capisco è come questo un tipo di sogno sì un sogno vivendo mi chiedi avete visto una piccola qui piccola, nero, 7 anni una ragazza 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 non posso dire che ho ero all'inizio l'inizio scusate è bene sai qualcosa di tutto questo strano nel basso non no 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 non 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 quindi non non che ecco ecco scusate ero ero una chiamata ero Tutti tutto quello che sai, cosa sta succedendo? La scuola... La città sta diventata dalla scuola La fortuna deve riuscire il desiderio peggio, il risultato di dormire Vivo che questo giorno arriverà Cosa stai parlando? Non ho capito una parola di questo Credo la evidenza dei tuoi occhi La altra città in questa città, è il tuo destino Questo è più oltre le mie capacità, solo tu puoi stoppare ora Non avete visto la città che è marata sulla città all over la città? Quindi è quello che ho visto nella scuola Cosa significa? È la marca di Samael Non lasciarlo essere completato Ehi, aspettate! Che è? Chiave del negozio di Antiparieto Dedugo che l'ospedale sia finito Ehi, aspettate! Ehi, aspettate! Ehi, aspettate! Ehi, aspettate! Bene Vabbè Basta così per oggi Io devo andare pure a dormire perché la mattina sveglia presto Anzi, mi devo fare tutta la barba e cose Va bene Grazie a chi c'è stato E... Ci vediamo alla prossima live Mi raccomando, iscrivetevi al canale Eclet Perché venerdì ci sarà una live bomba straordinaria Ci vediamo Alle prossime Buona serata